E' stato presentato all'Ocri il nuovo scritto di Don Giacomo Panizza, Cattivi maestri, la sfida educativa alla pedagogia mafiosa, edito da Bologna. La prefazione affidata a Goffredo Fofi apre su 22 capitoli che in 208 pagine si muovono tra l'elenco delle cose che mi piacciono del sud e la ballata dell'anti-racket, passando per riti e ruoli sociali per approdare poi alla tesi che una vera e propria pedagogia mafiosa si può contrastare solo con una valida educazione alternativa. Un testo insomma che vuole rivolgersi soprattutto ai più giovani per fungere da strumento di una giusta e sana interpretazione della vita, nell'ottica di una educazione alternativa alla pedagogia mafiosa in terra di frontiera. E oggi con gli studenti e le studentesse vi ho spiegato un po' la ragione di questo libro Cattivi maestri e la ragione del fare educazione, non facendoci condizionare dai mafiosi o dalla mentalità mafiosa ma fare un'educazione alla libertà e alla felicità. Perché i mafiosi, ho spiegato come il libro poi approfondisce, i mafiosi educano, non soltanto rapinano, non soltanto uccidono, ma educano facendoti paura, educano proprio sottomettendoti, educano col risultato di farti fare ciò che vogliono loro. Persone sottomesse, società rassegnate. Invece la pedagogia, piegavo, è stata inventata per un altro aspetto, non per venire sottomessi, ma per diventare ognuno noi stessi, ognuna se stessa. Perciò su questo tema, poi il discorso è stato, vedevo che stavano attenti a questi aspetti qua, perché avevano in mente soltanto che l'educazione è quella che viene passata, trasmessa e non invece fatta uscire anche dal di dentro.